di questa giornata. Il programma è piuttosto impegnativo e pertanto almeno nell'avvio riusciamo a restare nei tempi. Perfetto. Allora, innanzitutto un saluto a tutti, veramente di cuore da parte di noi tutti, mi presento perché avrete forse cominciato già a comprendere che non sono l'assessore Viviana Beccalossi, qualche cosa ve lo potrebbe avere suggerito. Purtroppo i nostri assessori, così come il presidente di Ispra, hanno avuto dei problemi e non sono riusciti a essere presenti qui oggi. Però, con piacere e anche ovviamente come dovere di ospitalità, evidentemente i migliori saluti e il ringraziamento per essere con noi qua oggi. Allora, diciamo che, poiché anche ho qualche minuto di più, questo mi permette di, non vi annoierò, sarà sicuramente molto breve, però anche qualche annotazione di dettagli. Una prima cosa per avviarci, oggi, evidentemente titolo, programma, lo comprendiamo bene, si tratta dell'evento conclusivo di un progetto europeo, lo vediamo citato là in alto a destra. Io lo sottolineo perché siamo nella fase proprio di chiusura della programmazione, a questo punto possiamo dire precedente, si sta avviando la nuova programmazione, mi sembra, insomma, lo commenteremo durante tutta la giornata, però che i risultati finali di questo progetto a carattere transnazionale, lo vediamo bene tra tutti i luoghi, siano stati particolarmente interessanti ed importanti. Diciamo che è un, come possiamo dire, un frutto non solo importante e interessante, ma anche da rappresentare come esempio di quelli che possono essere obiettivi da raggiungere, da percorrere attraverso questi programmi, forse un po' difficili da gestire, a volte anche con dei passaggi burocratici lunghi e complessi ai quali siamo poco abituati, ma che quando riescono ad arrivare a risultati concreti, utili, non solo al progetto, ma in particolare alle istituzioni e alla collettività, ecco, io penso che hanno, in questo caso, l'obiettivo è centrato al 100%. Siamo di fronte, evidentemente, ad un programma che si è avviato qualche anno fa, ho già detto, siamo nella fase conclusiva, un programma, lo vedete bene, progetto transnazionale, spazio alpino, con tutta una serie di partner stranieri, diciamo così, di altre regioni e ovviamente con dei partner importanti a livello italiano. Come in tutti gli interventi di saluto, ho il piacere, adesso solo per qualche attimo, di ricordarli. Di ricordare i partner, diciamo così, istituzionali principali, quindi la regione Emilia-Romagna, Ispra, regione Lombardia. Diciamo, permettetemi solo, come possiamo dire, non una battuta, però con sorriso, a dimostrazione che quando le istituzioni centrali e regionali condividono un obiettivo, sono anche in grado, anzi, io penso nella maggior parte dei casi, quasi sempre, di poter raggiungere dei risultati tecnici e scientifici, come in questo grado, addirittura di eccellenza. Ovviamente articolazione all'interno delle nostre due regioni, anche di Ispra, soggetto particolarmente, come possiamo dire, importante nelle articolazioni specifiche e quindi da parte di Regione Lombardia l'assessorato al territorio, oggi qua conoscete certamente tanti colleghi, così come sostanzialmente l'omologo servizio presso Regione Emilia-Romagna. Dicevo prima, l'ho fatto poco bene, diciamo oggi avrebbero dovuto essere qui con noi, avrebbero voluto essere qui con noi l'assessore Beccalossi per la Lombardia, l'assessore Gazzolo per la Regione Emilia-Romagna, deleghe non esattamente combacianti in generale, ma che però condividono le deleghe che relativamente, esattamente alla difesa del suolo e al territorio. Tra l'altro, inciso, ma solo per ricordarlo, che si ritrovano almeno in questa tornata ambedue nel comitato di indirizzo di AIPO, non c'entra assolutamente niente con la materia di oggi, però la ricordo solo come una delle poche, pochissime, io in verità mi ricordo solo quelle, agenzie nelle quali operativamente collaborano fin dall'inizio delle legge istitutive, le regioni insieme. Dicevo, quindi, i dipartimenti che si occupano in questa materia delle due regioni, il dipartimento specifico che si occupa da parte di Ispra di questa materia e il servizio geologico italiano. Ovviamente un tema perché, diciamo, Geomol, come poter dire, ha delle caratteristiche, non ne parlerò, ne accenerò velocissimamente perché avete veramente tante relazioni interessanti da ascoltare oggi, però, diciamo, tema spesso e consistente dal punto di vista tecnico-scientifico non poteva che appoggiarsi anche ad un, chiamiamolo, ad un parterre di istituti di ricerca, di soggetti dell'università particolarmente consistenti. Quindi l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, il CNR con due istituti diversi, ICAG e IDPA di Milano, l'Università di Bologna. Quindi a definire un solido, solidissimo zoccolo di natura tecnica. Ad aggiungere assolutamente a questo punto anche da ricordare, da sottolineare la partecipazione, anzi un po' di più, la disponibilità di ENI, che sostanzialmente è il detentore del maggior volume e delle maggiori conoscenze sulle caratteristiche del sottosuolo, messe, lo sottolineo, doverosamente, perché va sottolineato e ricordato, messe gratuitamente a disposizione del progetto. Se non ci fosse stato questo partner, probabilmente può darsi che il progetto non avrebbe potuto arrivare a questi risultati, forse non avrebbe neanche potuto svilupparsi. Cito poi, perché è in effetti stato interessante, forse non del tutto atteso all'inizio del percorso, un'adesione, come possiamo dire, per la strada durante il percorso di tutta una serie di soggetti istituzionali, di amministrazioni locali. Partecipano a questo punto nella qualità di osservatori, siamo comunque all'interno di un progetto finanziato dalla Commissione Europea che pertanto deve seguire, come possiamo dire, le prescrizioni di quell'organismo. Allora partecipano in qualità di osservatori le amministrazioni provinciali di Mantua e di Cremona, con le quali abbiamo fatto anche un accordo di collaborazione specifico, diversi comuni, evidentemente della pianura che è stato oggetto di studio, per in Regione Lombardia, il comune di Bagnolo Mella in provincia di Brescia, Bordolano in provincia di Cremona, Sabioneta in provincia di Mantua, oltre ad una società di servizi collocata nel territorio di Rovato, la Lineacom Rovato nel Bresciano. Allora, quindi oggi sviluppiamo, adesso per entrare, ma vi ho promesso che sarò molto breve, vengono rappresentati in questo, come possiamo dire, rapporto carrellata conclusiva i risultati del progetto, riferiti tutte le volte che abbiamo dovuto descrivere il progetto non è stato facile trovare le parole con cui poter spiegare a non addetti ai lavori, colleghi nostri, di altri assessorati, magari giornalisti, da poter incuriosire in modo tale da guadagnare al progetto anche un intervento sui quotidiani o presso i media, spiegare il concetto di modello tridimensionale del terreno, insomma, non è esattamente una cosa facile. Però questo è stato l'obiettivo in un bacino ampio, interessante, diciamo, interessante da un lato, lo dico fra un secondo perché è delicato da quell'altro, interessante perché ciascuno di noi sa quanto, come possiamo dire, quanto sia densa la presenza dell'uomo in questo territorio, in generale della pianura padana e di questa porzione della pianura padana in particolare. Quindi è una elevata, importante presenza antropica. Mi permetto di aggiungere tutte cose che peraltro conosciamo e di conseguenza condividiamo anche una importante, importantissima presenza di attività economiche, quindi da un lato una importante presenza antropica, dall'altra un'importante presenza di attività produttive divise nelle varie attività, però ho detto importante da un lato e delicato dall'altro, certamente delicato dall'altro perché siamo in un'area complessivamente che è stata, come possiamo dire, gravemente coinvolta dagli eventi del terremoto, sia da una parte che dall'altra parte, sia sul territorio emiliano naturalmente, sia però anche sul territorio lombardo. Avviandoci per la conclusione, ricordiamoci quello che è un aspetto sul quale tornerete certamente molte volte oggi, però diciamo qual è stato l'obiettivo generale del progetto di cui oggi portiamo i risultati finali. Quello di poter finalmente riuscire a mettere a disposizione delle informazioni tecniche e scientifiche su un ambito poco conosciuto fino ad oggi, poco conosciuto fino ad oggi, per il quale sono poco disponibili, come possiamo dire, dati ed informazioni certificate. Tante volte nelle nostre rispettive attività siamo di fronte a programmi, progetti, come poter dire, esigenze di pianificazione, di programmazione, di realizzazione che interessano il sottosuolo, però diciamo fino ad oggi almeno le amministrazioni e anche i tecnici, ovviamente, le amministrazioni hanno dovuto da un lato fidarsi delle informazioni che venivano rappresentate, le amministrazioni pubbliche e dall'altro i tecnici, riuscire a reperire in qualche modo delle informazioni poco disponibili. Ecco, uno degli obiettivi prioritari di Geomole è di poter arrivare a mettere a disposizione di tutti delle amministrazioni in tutta la loro fila, delle esigenze anche, come poter dire, dei privati e delle imprese dei tecnici che gli assistono, una serie di informazioni, come possiamo dire, indipendenti, certificate, che non hanno bisogno, come possiamo dire, di essere interpretate nell'interesse dell'uno e dell'altro. Sono semplicemente a disposizione di tutti. diciamo anche che in parte, in una parte abbastanza consistente, la disponibilità di queste informazioni permette anche, in particolare, io dico, alle amministrazioni pubbliche di dare delle risposte certe rispetto a tanti interrogativi e magari anche in alcuni casi di poter raddrizzare, come poter dire, sul vero delle affermazioni o delle credenze che invece basi oggettive e basi scientifiche non ce le hanno. Abbiamo detto un ambito delicato, abbiamo ricordato il terremoto, ambito importante perché questa area, le nostre regioni geografiche, in questo momento le sto intendendo in questo modo, non amministrative, sono molto interessate anche alle applicazioni pratiche legate, come poter dire, allo sviluppo che un progetto di questo genere ci può dare. Quindi per quanto riguarda la qualità, la quantità delle riserve idriche, le potenzialità dell'energia geotermica, comportamenti, l'abbiamo detto già diverse volte, di fenomeni come i terremoti che tutti ricordiamo nel nostro ambito, nell'ambito della pianura ci hanno colto obiettivamente, come poter dire, ci hanno colto nella sorpresa e nell'illusione sbagliata che questo fenomeno nei nostri territori non potesse mai avvenire. Così non era, così non è mai stato e così siamo stati costretti a verificare di fronte. L'ultimo intervento di questa giornata, certamente un po' impegnativa, ha un titolo a sua volta interessante, forse per quello che l'abbiamo messo per ultimo, però nel titolo questioni aperte e sviluppi futuri c'è come poter dire il rilancio, ci sarà il rilancio rispetto ad un'attività di ulteriori approfondimenti, perché l'ambito indagato è stato geograficamente limitato, le risorse del progetto a questo punto sono in fase finale di utilizzo, ormai ci affacciamo alla fase della rendicontazione, come tutti i buoni progetti, i progetti che servono significativamente a qualche cosa, alla fine del progetto ci si ritrova di fronte ad una serie di domande o di esigenze diciamo, che cercheremo anche attraverso la giornata di oggi di mettere a fuoco per poi sostanzialmente se tutto andrà bene e se queste domande e queste esigenze saranno convincenti per metterci tutti quanti alla caccia di nuove risorse e di nuove finanziamenti, in modo tale da poter allargare i buoni risultati ottenuti. Diciamo quindi, e termino questo mio intervento di saluto a nome, perdonatemi se lo ricordo, di tutte le amministrazioni che hanno coinvolto questo percorso di cuore rivolto a tutti i partecipanti, un risultato del quale credo che tutti i nostri enti possono essere giustamente orgogliosi, giustamente orgogliosi, che ci ha permesso per una volta tanto di indagare territori realmente poco conosciuti dal punto di vista tecnico e scientifico, che ci apre, che sembra aprirci delle traiettorie di ulteriore indagine e soprattutto di ulteriore sviluppo particolarmente interessanti. Vi ringrazio. Eccoci. Allora, adesso ci immergiamo nel progetto e poi pian piano a diversi livelli di approfondimento cominciamo a vederne anche i risultati. Il mio compito è quello di fare una rapidissima carrellata sul progetto, su quali erano le finalità, gli obiettivi, molto è già stato detto sui partner, e poi lasciare la parola a chi vi illustrerà esattamente, cioè a chi comincerà a esplorare nel sottosuolo e a far vedere i risultati. Innanzitutto, voi sapete che è un progetto di spazio alpino, che era all'interno della priorità 3 di spazio alpino, ambiente e prevenzione dei rischi, una delle ultime call, siamo alla fine di questa avventura, che si deve concludere entro la fine del 2015. È già stato detto, però siamo anche all'inizio di una nuova fase di programmazione e quindi diventerà importante capire e vedere quali potrebbero essere gli sviluppi da questo punto di vista sulla nuova programmazione 2014-2020. La finalità generale del progetto era quella di realizzare uno strumento transregionale per la pianificazione sostenibile del sottosuolo, utilizzando modelli geologici un po' nuovi, modelli geologici, a tre dimensioni. Naturalmente, perché questa esplorazione e queste modalità nuove di studio e di definizione del sottosuolo? Perché ormai diverse delle politiche europee, soprattutto quelle legate alla riduzione della CO2, richiedono, evidentemente, di aumentare la produzione di energie rinnovabili, renderla più efficiente e sviluppare capacità di accumulare l'energia in rete. Questo trova subito un'applicazione nei cosiddetti bacini molassici, il geomol significa la geologia di questi bacini, oltre Alpe e all'interno della pianura padana, in particolare delle molasse, che costituiscono e che offrono, evidentemente, significativi geopotenziali per l'energia geotermica, per l'accumulo di energia prodotta da fonti eoliche, solari, e per lo stoccaccio di gas e CO2, con tutti i problemi che si aprono quando si parla di stoccaggi in sotterraneo. Però è un'applicazione di sicuro interesse ormai a livello generale. Ecco, naturalmente queste applicazioni evidentemente ci devono anche suscitare alcune attenzioni che sono evidentemente le interferenze con quello che c'è già nel sottosuolo, in sostanza le risorse idriche, in particolare gli acquiferi, e le risorse energetiche fossili, evidentemente. Quindi utilizzare il sottosuolo significa anche andare a conoscere con esattezza e con migliore precisione le geometrie di tutte queste interferenze. Naturalmente, una delle altre attenzioni particolari, e questa è arrivata anche durante l'inizio, lo svolgimento iniziale, diciamo così, del progetto, uno dei temi importanti è quello della pericolosità sismica di queste aree e quindi anche dell'utilizzo del sottosuolo. Ribadisco che c'è molto interesse, c'è grande attenzione da parte di associazioni, di enti pubblici, ma anche, credo, di istituti di ricerca e di università sul tema dell'utilizzo degli stoccaggi in sotterraneo e delle relazioni che questo provoca con gli aspetti di carattere sismogenetico. C'è un approccio tradizionale che noi sappiamo, sapete, che la pianificazione del sottosuolo, l'utilizzo del sottosuolo, è in genere attuato tramite concessioni che vengono delimitate, evidentemente, arealmente in superficie e spesso, come dire, sono collegate anche per forza di cose con i limiti amministrativi di chi deve gestire queste risorse e queste concessioni. Ma sappiamo ben tutti che poi fino a che punto ci si debba spingere, cioè, sappiamo, uno dei problemi è che le concessioni, pur dovendo rispettare dei limiti amministrativi e degli ambiti areali, nel sottosuolo non è poi così sempre chiaro fino a dove devono spingersi, come devono spingersi, quali sono anche tutte le implicazioni connesse con le concessioni stesse e con gli aspetti di carattere anche giuridico qualche volta degli utilizzi in sottosuolo. Sappiamo anche bene tutti che sia le risorse del sottosuolo che i rischi che derivano dallo sfruttamento di queste risorse non rispettano assolutamente i confini amministrativi e men che meno spesso i limiti di queste concessioni. Ecco perché naturalmente l'utilizzo invece seguono piuttosto le strutture geologiche e i loro limiti naturalmente è sempre più opportuno valutare tridimensionalmente o comunque studiando e verificando i rapporti geometrici nel sottosuolo sotto le tre dimensioni. Ecco perché il progetto allora vuole introdurre un approccio innovativo per pianificare appunto a 3D, probabilmente 4D nel senso che oltre le tre dimensioni classiche c'è anche la dimensione tempo che è la quarta dimensione che andrebbe sempre ben tenuta in considerazione per poter valutare al meglio le possibili interferenze tra i diversi utilizzi, gli impatti che possono significativamente essere diversi dall'estensione anche delle concessioni. cioè gli effetti, gli impatti possono evidentemente riprodursi su ambiti anche ben più grandi rispetto a quelli delle concessioni normalmente date. Naturalmente per poter lavorare e avere una visione del sottosuolo in 3D deve essere soprattutto guidata dalla conoscenza delle strutture geologiche avere questa conoscenza permette una pianificazione e poi quindi anche una valutazione delle concessioni che consideri la vera collocazione spaziale dei potenziali del sottosuolo e le loro possibili concorrenze. Il progetto come tenta di dare alcune e di introdurre queste modalità innovative producendo e condividendo conoscenza abbiamo già detto dell'enorme quantità di dati e informazioni che sono state messe a disposizione in particolare da Eni per lo studio del sottosuolo realizzando quindi modelli geologici 3D scientificamente validi e anche facilmente accessibili anche se poi il facilmente accessibili andrebbe un attimo spiegato e chiaramente lavorando anche insieme pubblica amministrazione, operatori economici, ricercatori, università, cittadini per una pianificazione più sostenibile da una parte ma anche più condivisa e quindi una trasparenza anche maggiore di quelli che sono i prerequisiti che poi conducono a rilasciare delle concessioni importanti. Andiamo avanti È già stato detto però vado via molto velocemente 14 partner nel progetto vari pubbliche amministrazioni servizi geologici nazionali, regionali di sei paesi la regione capofila la Baviera con poi oltre 40 che abbiamo chiamato osservatori non sto a leggerli tutti ma andiamo avanti l'area pilota sono 5 le aree pilota del progetto in realtà 4 nella zona nord alpina e una nella zona della pianura quindi sud alpina e in particolare adesso andiamo avanti ancora vediamo dopo magari vedrete un po' più nei dettagli l'area di studio effettiva dei partner italiani e del gruppo italiano che sono poi stati che sono questi che vedete citati il servizio geologico d'Italia con Ispra la regione Emilia Romagna e la regione Lombardia andiamo avanti ecco dicevamo prima che ci sono stati vari accordi operativi per poter accedere e acquisire i dati ma anche per poterli elaborare anche per poter effettuare quegli approfondimenti di carattere geologico ma non solo geologico anche informatico in alcuni casi per poter rappresentare tutta la mole dei dati messi a disposizione abbiamo già detto di Eni S.P.A. Exploration and Production che ringraziamo per appunto la quantità di materiale messo a disposizione i vari CNR di Roma e l'INGV e anche quello di Milano in particolare il CNR IGAG di Roma ha dato un supporto scientifico per la caratterizzazione geologico strutturale dell'area pilota l'INGV dall'INGV abbiamo avuto la caratterizzazione sismotettonica delle strutture mappate nel modello 3D il CNR di Milano l'Università di Bologna di Modena di Reggio Emilia ma anche le province di Mantove e Cremona hanno invece contribuito parecchio nella caratterizzazione del settore meridionale dell'area pilota chiaramente in prospettiva di microzonazione sismica nel frattempo dicevamo c'era stato l'evento sismico e anche le province hanno fortemente voluto e collaborato per andare in questa direzione gli osservatori sono appunto questi che vedete qui segnati non li sto chiaramente a leggere tutto però abbiamo detto riteniamo assolutamente importante e utile che tra gli osservatori ci siano non solo i CNR e le università ma addirittura una regione e anche diverse amministrazioni comunali che poi sono quelle che pianificano il loro territorio sono quelle che devono sviluppare gli studi di microzonazione sismica e che molto spesso hanno una visione quasi puntuale molto locale delle problematiche e invece in questo caso credo che siano state non solo collaborative ma anche abbiano potuto verificare un po' con uno sguardo d'insieme molto più vasto rispetto al singolo territorio comunale eccola qua un po' più in dettaglio l'area pilota che è stata studiata sono quasi 5500 km quadrati tre regioni perché c'è anche una parte di Veneto che è compresa in quest'area sei province due città capoluogo naturalmente un'area come già stato detto a vocazione agricola industriale ma anche con ampie porzioni ancora naturaliformi e a vocazione naturalistica andiamo avanti dicevo un'area molto complicata qui abbiamo scritto compressa tra gli appennini e le alpi un'area appunto che forse sicuramente molto studiata nel passato soprattutto da Eni per la ricerca petrolifera eccetera tornata molto alla ribalta anche per gli aspetti di carattere sismico recentemente questa è se ricordo bene la carta geologica è un modello strutturale sì giusto e che colloca quest'area che sostanzialmente va dal margine alpino dalla zona della provincia di Brescia alpina tutta la pianura diciamo così bresciana una buona parte della pianura cremonese fino al margine appenninico e quindi nelle province di Modena e Ferrara no Reggio pregio niente adesso mi fermo qua l'inquadramento mi sembra che sia più che sufficiente adesso entriamo nel merito proviamo a immergerci in queste in questa pianura con come dice il convegno con un occhio esperto per vedere i risultati più importanti del progetto allora io invito a venire al tavolo i diversi relatori naturalmente parte il professor Giovanni Muttoni eccolo dell'Università di Milano che ci farà l'inquadramento geologico un po' più dettagliato rispetto a quanto ho fatto io per definire bene l'area l'area pilota italiana salve a tutti dunque io farò un inquadramento geologico molto ad ampio respiro nel senso che vorrei far capire soprattutto i non addetti ai lavori sostanzialmente quello che abbiamo sotto i nostri piedi dunque noi vediamo quando guardiamo la zona della pianura padana vediamo una morfologia vediamo una pianura circondata da catene di montagne quindi vediamo una corrugazione eccetera ma forse non ci rendiamo conto di tutta la storia che c'è dietro a questa morfologia sia in termini proprio di geologia a lungo termine nei milioni di anni centinaia di milioni di anni che hanno sono trascorsi sono registrati nelle rocce sia anche per quanto riguarda la nostra vita quotidiana che è determinata anche dai processi naturali che hanno origine a lunghissimo termine quindi io farò una proprio un excursus generico su quella che è la storia geologica a lungo termine di quest'area soprattutto per far comprendere la complessità di tutto quello che ci circonda che affonda le proprie origini appunto nella storia geologica noi abbiamo un'area pilota che è ricchissima di risorse naturali paesaggistiche come è stato appena detto e anche di complessità che la complessità è una ricchezza che si manifesta anche in processi geologici che ci toccano direttamente quindi terremoti eccetera che è studiata è stata studiata nel corso degli anni da generazioni di geologi naturalisti ingegneri eccetera eccetera e che quindi da questo punto di vista può essere ritenuta unica al mondo una delle regioni più note più studiate e più dinamicamente attive e quindi continuamente mutanti mutevoli della io direi dell'intero pianeta se vogliamo ora noi appunto come diciamo non addetti ai lavori siamo abituati a percepire il paesaggio un po' in questo modo questa è un'immagine presa dalla capanna Bioschi in vetta alla grigna stentrionale della pianura padana con tutte le luci dell'area metropolitana di Milano vediamo una morfologia vediamo qualcosa che è bello anche ma i geologi invece vedono magari una struttura quella sotto vedete è una classica immagine della struttura geologica del gruppo delle grigne quindi dei calcari delle rocce deformate piegate sovrapposte in una struttura domino come si dice con piani di scorrimento eccetera eccetera quindi sono occhi diversi quelli diciamo del cittadino se vogliamo comune o rispetto al geologo che è un tecnico ecco qui si apre un po' la distinzione generica generale che è il geologo il geologo è colui che non soltanto è chiamato a certificare se una faglia è attiva o a definire se una roccia è un buon contenitore di petrolio o gas e quindi non è soltanto colui che opera utilizza informazioni geologiche operando nel quotidiano se vogliamo che è fondamentale ma è anche colui che comprende perché è una faglia attiva perché conosce tutta la storia geologica della regione a partire da appunto centinaia di milioni di anni fa e ci sono due tipi di geologi essenzialmente geologi che vanno a studiare le catene montane perché nelle catene montane trovano affioramenti quindi possono vedere le rocce in affioramento e studiarne la successione come in questa immagine della presolana con i vari calcari triassici sovrapposti alle facce sbaccinali del triassico medio oppure ci sono i geologi di pianura tra virgolette cioè coloro che non hanno la possibilità di vedere le rocce davanti a loro esposte e devono per forza andare a bucare per poter recuperare la stratigrafia ora la cosa bella per la pianura padana è che le due figure sono strettamente legate perché fondamentalmente quello che noi vediamo affiorare nelle prealpi o anche negli appennini è quello che abbiamo sotto i nostri piedi quindi noi possiamo studiare l'affiorante per farci un'idea e quindi prevedere cosa potremmo trovare in caso di perforazione nel mezzo della pianura padana quindi le due cose sono molto legate poi un'altra cosa che volevo dire è che appunto i geologi soprattutto i geologi che in ambito stratigrafico utilizzano tutte queste informazioni per ricostruire queste sequenze di rocce che tutti gli addetti ai lavori conoscono bene che sono note come schema dei rapporti stratigrafici dove le successioni delle varie rocce affioranti o perforate sono organizzate nel tempo e questo è il classico schema dei rapporti stratigrafici del 2000 di Giadullo e Forcella per quanto riguarda il Triassico Giurassico e Cretaccico a cui gli studi soprattutto in pianura e anche Geomol quindi ha sviluppato soprattutto nel recente con uno schema di rapporti stratigrafici più dettagliato per quanto riguarda il Pliocene il Prestocene cioè gli ultimi circa 5 milioni di anni quello che volevo dire è che i geologi poi vedono queste rocce stratigrafiche o anche altri tipi di rocce per carità io sono stratigrafo per cui tendenzialmente per me le rocce sono stratigrafiche che sono sedimentari sono tra l'altro anche di origini diciamo pre-alpine per cui per me le montagne sono a nord la pianura a sud e viceversa è impossibile quindi quando vanno in Appennino sempre un po' di difficoltà capire dove è il nord e il sud guardando le montagne ma questo va bene dettaglio ognuno guarda le rocce stratigrafiche le rocce in generale a seconda del proprio background cioè la propria preparazione uno stratigrafo di preparazione sedimentologica guarda un calcare guardando i processi che l'hanno generato quindi i processi sedimentologici eccetera gli ambienti sedimentari un altro li può guardare dal punto di vista temporale cioè utilizza tecniche varie fisiche o chimiche o biologiche per riuscire a capire l'età della roccia altri come sottoscritto per esempio sono diciamo tra virgolette ossessionati dalla mia ossessione quella di capire dove quella roccia quell'ambiente si è formato in termini di latitudine utilizzando una tecnica di studio che è nota come paleomagnetismo utilizzando questa tecnica di studio uno può comprendere se una determinata roccia si è formata a una certa latitudine rispetto quindi all'assi di rotazione e comprendere se la generale architettura di un'area può essere ricondotta alla posizione che quel bacino sulla placca occupava al momento della formazione vi faccio un esempio banale il petrolio il carbone si formano preferenzialmente all'equatore perché all'equatore ci sono le condizioni di formazione di ingenti quantità di materia organica che poi si possono preservare nei bacini sedimentari mentre in aree tropicali per esempio dominano processi eolici per esempio di clima arido e quindi le grandi successioni di arenari eoliche continentali ora studiando la posizione delle placche nel tempo e la loro posizione rispetto alle fasce climatiche zonali uno può ricostruire la storia evolutiva la grande architettura la grande struttura della stratigrafica di un'area è quello che sostanzialmente di cui io mi occupo avevo un bel filmino sul movimento delle placche che non posso farvi vedere per questioni tecniche però sappiamo che le placche si spostano si spostano anche a velocità apprezzabili che possono superare i 10 cm all'anno e noi possiamo utilizzare quindi questo accoppiamento tra posizione delle placche e tipologia di ambiente sedimentario per comprendere la stratigrafia e l'architettura generale di un'area cosa che è molto facile molto facile molto ben applicabile per l'area per esempio prealpina per esempio vado veloce il Triassico è il periodo delle piattaforme carbonatiche dove dominano i fiacari di Iesio la donna principale eccetera è il periodo in cui la generale paleogeografia del mondo prevedeva che l'area alpina fosse stazionasse a latitudini tropicali circa 30 gradi latitudini nord nel mezzo della fascia climatica aria tropicale che è perfettamente compatibile con gli ambienti sedimentari che vediamo le piattaforme carbonatiche che tipicamente anche oggigiorno occupano le fasce tropicali dopodiché abbiamo il Giurassico che è il grande periodo dell'apertura della formazione dell'oceano Ligure Piemontese da noi che è una sostanziale prosecuzione dell'oceano atlantico centrale l'apertura quindi lo sprofondamento la subsidenza la formazione delle sequenze bacinali che occupano l'area prealpina e sono presenti anche in sottosuolo per esempio abbiamo le formazioni del calcare della formazione di sogno le radiolariti i rossodaptici che sono le sequenze bacinali di età giurassico medio superiore molto note e studiate ora la cosa bella è che se guardate questa sequenza di evoluzione di Pangea dell'area ve la faccio rivedere non posso tornare indietro si ha sostanzialmente l'apertura dell'oceano atlantico centrale e dell'oceano Ligure e in questa fase di approfondimento si formano le facce sbacinali che noi vediamo affioranti ma non solo durante questo movimento di apertura tutti i continenti si spostano verso sud e si avvicinano all'equatore e le radiolariti si formano essenzialmente perché ci si avvicina alle fasce di alta livelli trofici equatoriali dove gli organismi planktonici vivono in abbondanza e quindi abbiamo delle fasce tipicamente equatoriali che si incontrano oggigiorno per esempio nel Pacifico equatoriale e che sono le nostre radiolariti durante l'apertura dell'Atlantico e del nostro oceano Ligure Piemontese accoppiato a questo movimento delle placche poi abbiamo il Cretacico che è l'epoca diciamo della chiusura di questo oceano come sappiamo abbiamo sostanzialmente la formazione di varie sequenze che troviamo ripeto anche in sottosuolo a partire dalla maiolica evolvendo all'interno dei flisce quindi di arenarie tipicamente legate a processi di convergenza e quindi abbiamo le varie unità silicoplastiche affioranti al margine della pianura che adesso conosciamo abbastanza in dettaglio e la cosa molto bella è che si può ricondurre in questo diciamo inizio della chiusura dell'oceano alla movimento generale delle placche nella fattispecie se date un'occhiata al limite tra Europa tra Africa e Sud America scusate vedete l'apertura dell'Atlantico meridionale e questo comporta una rotazione antioraria di tutta Africa con adria attaccata che chiude a nord dell'oceano Ligure Piemontese iniziando la convergenza la subluzione e la distruzione dell'oceano quindi la formazione dei flish prima e poi della catena collisionale per come la vediamo quindi io ho sempre quest'occhio diciamo paleo geografico che è riconducibile poi in sezioni a lungo termine come questa che sono quelle che usano più i geologi ma che forse non sono molto intuitive per un pubblico di non addetti dove abbiamo la storia della convergenza della chiusura dell'oceano Ligure Piemontese dal Cretacico in avanti prima la formazione del cuneo crezionale con tutta la storia dei flish e poi il contatto continente continente e la strutturazione della catena prealpina prealpina durante il Cenozoico da partire dall'Eocene attraverso l'Oligo Miocene e il Pliocene giorni nostri allora a me piace collegare queste diciamo sezioni stratigrafiche un po' rigide se vogliamo a una storia dinamica di movimento delle placche come ho cercato di farvi vedere per arrivare appunto alla strutturazione quindi ci ricolleghiamo alla slide iniziale la catena per come il geologo la vede risultato di questa storia di movimento di placche apertura chiusura di oceani e convergenza e deformazione apertura convergenza e deformazione per arrivare alla situazione diciamo attuale o quantomeno quella a partire dall'Oligo Miocene in avanti che vede una seconda diciamo evento tettonico e geologico molto importante che è soprattutto legato all'evoluzione questa volta dell'Appennino settentrionale non tanto dell'area alpina o prealpina che è la rotazione del blocco sardo-corso ovvero il fatto che il pezzo di crosta continentale che comprende l'attuale Corsica e Sardegna erano collocate prima dell'Oligocene e durante tutto il periodo mesozoico palozoico attaccate al bordo orientale della Francia del Golfo del Leone e durante l'Oligo Miocene hanno subito una rotazione anti-oraria di circa 35 gradi con la formazione dell'Oceano Balearico a Tergo e questa rotazione anti-oraria ha prodotto la deformazione di tutta la regione a est del blocco sardo-corso che è poi quella che noi conosciamo come catena dell'Appennino settentrionale studiata da colleghi molto prima di me e in maniera molto più dettagliata di me ma comunque sappiamo che c'è una sostanziale correlazione tra la rotazione del blocco sardo-corso e l'apertura del Balearico la subduzione a ovest vergente di quell'Oceano Ligure-Piemontese rimasto sopravvissuto alla convergenza alpina con formazione di una struttura a catenea falde con le unità oceaniche delle Liguri che vanno in sovrapposizione alle unità continentali del margine di Adria con sovrapposte interposte le proprie avanfosse in una struttura che noi abbiamo ben presente essere più o meno di questo tipo che è quella che ho appena descritto e quindi noi abbiamo sostanzialmente un'area padana che è il risultato unico se vogliamo nel mondo di processi geologici che sono essenzialmente legati all'apertura dell'oceano atlantico la rotazione della placca africana la convergenza e chiusura di un oceano Liguri-Piemontese formato durante il giurassico medio e inferiore medio medio diciamo la rotazione di un blocco crostale e la conseguente rollback della litosfera oceanica sopravvissuta con deformazione est vergente nell'area dell'Apenino estentrionale insomma una storia estremamente complessa affascinante che ci porta ad avere una struttura di questo tipo con la pianura padana che è l'incontro delle falde sudalpine che migrano verso sud e nordapenniniche che migrano verso est quindi diciamo è la regione di incontro di questi sistemi deformazionali ma soprattutto quello che per noi conta sempre ricordare c'è una vestita di geologo che parla anche con la gente è che questo processo è la punta di un iceberg cioè questo processo è tutto ora in atto quindi noi vediamo nelle pieghe ferraresi che sono attive come vedete dall'immagine come non poi ben sappiamo tutta una diciamo manifestazione attuale di tutto questo processo che affonda nell'evoluzione geologica a lungo termine e che ha origini anche al di fuori soprattutto al di fuori della catena cioè nel grande movimento geometria delle placche litosferiche negli ultimi diciamo se vogliamo 200 milioni di anni poi c'è tutta la storia pleistocenica che è un'altra cosa che mi ha affascinato e di cui mi sono occupato negli ultimi anni cioè tutta questa struttura deformativa è stata poi fortemente modellata dagli agenti diciamo esogeni a partire soprattutto da circa un milione di anni fa quando è iniziata la grande fase di raffreddamento del pleistocene con lo stadio isotopico 22 più o meno a 870 mila anni con l'inizio delle grandi fasi glaciali quindi con l'arrivo degli acciai per la prima volta che sbordano sul margine dal margine sudalpino e arrivano in pianura arrivano in Brianza arrivano fino a formare l'anfiteatro del Garda e ritirandosi avanzando un numero considerevole di volte che più o meno sono le volte che la curva del delta 18 fluttua hanno contribuito a modellare la morfologia affiorante e a riempire sostanzialmente la pianura padana di sedimento fluviale e trasformandola a partire da circa appunto 900 mila anni fa in quella che è la pianura padana per come la conosciamo pianura padana appunto come questa immagine illustra legata appunto a dove il mare arrivava fino a prima del Miss 22 circa alla longitudine di Leff di Mantova se vogliamo e dopo il Miss 22 si attesta alla longitudine quasi a quella attuale legata sostanzialmente al riempimento che la pianura padana ha subito da parte dei sistemi fluviali e soprattutto durante le maggiori fasi glaciali fredde e di basso eustatico in corrispondenza delle quali i fiumi aumentavano fondemente il loro potere erosivo trasportando tutto il materiale in pianura e quello che era il golfo delle balene prioceniche dell'argile azzurra si trasforma in una pianura continentale fluviale continentale tra l'altro inducendo probabilmente anche un aplift isostatico in catena quindi da questo articolo che aveva questo termine questo titolo molto bello di Kent Rio Massari Cucla che è recentemente scomparso e Luca Lanci abbiamo che la pianura padana diventa continentale per la prima volta da 200 milioni di anni a partire da adesso non ricordo bene quale è stato esotopico però poche centinaia di migliaia di anni fa e quindi molto si parla del fatto che Venezia va sott'acqua in realtà è emersa dalle acque per la prima volta poche centinaia di migliaia di anni fa e con questo chiudo il mio excursus e mi scuso se è stato banale per gli addetti ai lavori ma no no ci mancherebbe grazie una lezione di geologia strutturale in 20 minuti non era semplice e quindi la ringrazio abbiamo comunque siamo anche ampiamente dentro nei tempi quindi passiamo subito a Andrea Piccini e Fabio Molinari che chiedo di accomodarsi anche lui al tavolo che ci illustreranno e ci diranno quali sono i dati di partenza e la metodologia di analisi che è stata sviluppata nell'ambito dei dati geologici naturalmente del progetto Geomon parti tu Andrea grazie come avete visto allora dall'intervento precedente non partiamo da zero la pianura la zona del progetto Geomol è stata ampiamente studiata in realtà molti conoscono la catena alpina e la catena appenninica solo pochi conoscono il sottosuolo della pianura ovviamente con un dettaglio minore perché come avete visto non ci si arriva direttamente occorre perforare fare delle prospezioni ma anche perché chi può fare queste cose non sono tutti i geologi che prendono il martello vanno in campagna e risolvono il problema ma solo chi ha interessi e potenzialità per farlo però c'è una certa letteratura disponibile pubblica sia in termini di pubblicazione alcune fatte proprio da questi enti che hanno interessi e conoscenze del sottosuolo come ad esempio in Italia Eni Agip che a me piace ancora chiamarla così anche se ormai sono anni che hanno abbandonato questo nome con cui peraltro sia come regione Emilia Romagna che come regione Lombardia nei primi anni fin anni 90 prima anni 2000 abbiamo già fatto una collaborazione uno studio limitato è vero alla parte più superficiale oggi potremmo dire quasi pellicolare visto poi dove siamo andati a mettere il naso e finalizzata soprattutto allo studio delle risorse idriche sotterranee però che avevano già utilizzato metodi magari meno evoluti di mappature di rendering delle informazioni ma che già avevano fatto un quadro per il Pleistocene abbastanza importante e che è stato poi ulteriormente perfezionato con il progetto Geomall ma sostanzialmente quello era e poi una serie di pubblicazioni scientifiche di diversi ricercatori alcuni sempre coinvolgendo ricercatori tecnici di Eni quindi che hanno messo progetti specifiche per ricerche specifiche a disposizione già dei dati e che sono stati pubblicati questo per esempio è un esempio molto recente in cui c'è una sintesi anche strutturale di un'area della pianura centro orientale in cui ricade perfettamente poi l'area del progetto Geomall così come ci sono oltre che informazioni e elaborazioni anche molti dati geologici già disponibili già pubblici anche questo è un esempio della banca dati regionale della Lombardia per stratigrafia di pozzi e sondaggi pozzi per acqua e sondaggi stessa cosa non avevo i dati a disposizione ma c'è per l'Emilia Romagna anzi forse anche più dettagliata per inciso questi dati sono stati rinforzati e sistematizzati nell'ambito del progetto Geomall per le province interessate e li troverete a breve pubblicati sul servizio regionale sul geoportale nel servizio della banca dati geologici di sottosuolo che già interessa altre regioni molti di voi credo già lo conoscono però ci sono anche i dati di Ispra legati sempre stati dei pozzi sondaggi alla legge 464 dell'84 ci sono dati gravimetrici dati di pozzo e sismici ovviamente prodotti da Eni o da altre compagnie che sono però stati pubblicizzati e pubblicati dal ministero dello sviluppo economico nel sito di Unmig ci sono dati giochi di superficie mappe strutturali eccetera di qualcuna le avete viste utilizzate come sfondo delle precedenti presentazioni però è ovvio che in quest'area il vero dato importante quello che fa un salto di qualità alle ricerche che permette di andare da qualche parte sono i dati profondi derivanti da oltre 50 anni di esplorazione fatta da Eni per la ricerca e l'utilizzo di idrocarburi nel sottosuolo come abbiamo detto all'inizio abbiamo fatto un accordo con Eni i tre partner del progetto in cui loro ci hanno messo gratuitamente a disposizione tutti i loro dati grezzi non le interpretazioni però con un vinco di riservatezza questo ci tengo a dirlo chiaramente nel senso che i dati ce li hanno messi a disposizione non ce li hanno dati scusate il gioco di parole e quindi non li abbiamo utilizzati per fare le nostre interpretazioni che sono nostra responsabilità nel bene e nel male e poi noi mettiamo a disposizione di faremo vedere e pubblichiamo le nostre interpretazioni perché il dato geologico il dato di Eni è comunque una risorsa strategica ed economica per Eni che da quando a fine anni 90 è stata liberalizzata la pianura padana che prima era di esclusiva Eni quindi altre compagnie possono entrare ad esplorare ma anche a sfruttare le risorse e ovviamente è diventato una risorsa economica perché viene in qualche modo gestita venduta o comunque può avere problemi quindi noi abbiamo vale la pena di ribadirlo questo vinco di riservatezza che abbiamo sottoscritto per il progetto GioMall quindi quello che vi facciamo vedere a parte qualche esempio giusto per capire su cosa abbiamo lavorato poi ve lo facciamo vedere sono le nostre elaborazioni però come vedete la densità in particolare in quest'area di dati queste sono le tracce delle linee sismiche è molto importante ci sono abbiamo caricato in questo dataset ci hanno caricato 807 linee per un totale di 12.200 km di linea più 126 pozzi selezionati non tutti quelli che ci sono ma quelli più rappresentativi perché poi che servivano per lavorare qui ne ho rappresentati solo alcuni solo quelli pubblici ma ce ne sono altri che abbiamo utilizzato ovviamente con una mole di dati così importante bisogna anche avere degli strumenti di elaborazione che non sono quelli che ho utilizzato io e anche al tempo delle riservate di costo terraneo in cui si lavorava ancora sulla carta e a interpretare le linee sismiche sulla carta e quindi si andava piano e con anche se alcune cose forse si vedevano meglio ma Eni ci ha messo a disposizione anche quello che si chiama Data Room cioè una situazione presso i loro uffici in cui ci sono una serie di workstation con tutti i dati caricati e in cui per diverse settimane nell'arco di due anni abbiamo potuto andare lì a lavorare e produrre le nostre interpretazioni anzi non so se c'è in sala ma mi corre l'obbligo di ringraziare in particolare Claudio Cattaneo di Eni che ci ha fatto da Angelo Custode che interveniva quando noi per errore chiudevamo qualche finestra e si bloccavano le macchine e che ci ha accompagnato dal punto di vista tecnico in questo lavoro credo che qui più o meno tutti lo sappiamo ma poi questo convegno verrà messo anche in rete credo sia interessante anche per i non addetti ai lavori far capire bene su che cosa abbiamo lavorato quindi scusatemi se banalizzo qualcosa ma vorrei raccontare che cos'è una sezione sismica cioè quella griglia di linee che abbiamo visto sul territorio sono in realtà una serie di radiografie del sottosuolo fatte con dei metodi non invasivi di esplorazione geofisica in sostanza si energizza il terreno una volta si usavano delle piccole cariche esplosive in pozzetti oggi si usano questi vibrosize questi camion con una massa vibrante che si spostano lungo una certa direzione che è poi lo stendimento della linea energizzano il terreno quindi producono delle onde delle onde che si propagano nel sottosuolo che vengono riflesse rifratte riflesse da alcune superfici nel sottosuolo e vengono poi registrate da una serie di sensori che si chiamano geofoni che vengono spostati di conserva e quindi vanno a produrre la linea sismica ovviamente poi c'è tutto un lavoro di processing di elaborazione di questi dati che vanno combinati per poi filtrati eccetera per poi riuscire a produrre un qualcosa di comprensibile ai non strettamente geofisici i principi che stanno alla base sono quelli della riflessione e rifrazione delle onde vale per l'ottica come vale per le onde che si propagano nei solidi le onde di compressione questo è appunto lo schema di energizzazione che misura la riflessione ovviamente la riflessione che è questa situazione qui è dove c'è un sufficiente contrasto tra due livelli un po' come alla superficie tra aria e acqua i raggi del sole vengono riflessi così tra una sabbia e un calcare che crea un contrasto di densità di proprietà fisica che si chiama impedenza acustica parte dell'onda viene riflessa parte dell'energia viene riflessa e viene quindi registrata da un sensore in superficie un'altra parte viene rifratta quindi cambia direzione una parte di energia viene assorbita e si propaga nel sottosuolo per andare a interessare altre unità altri terreni più in basso la composizione di tutti questi segnali riflessi da un grafico diciamo così di questo tipo che si trasforma poi in una sezione sismica e questi parti neri e parti bianchi sono le differenze di fase che vengono combinate e che sostanzialmente rappresentano la geometria di questi riflettori di queste superfici di contrasto di impedenza acustica nel sottosuolo in questo ci sono due aspetti che vale la pena di sottolineare una è la questione della velocità delle onde nel senso che le sezioni sismiche hanno una scala verticale che non è in metri non è in profondità ma è in tempi perché rappresenta il tempo in cui l'onda sismica è andata dalla sorgente quindi dalla carica esplosiva piuttosto che dal camion vibrante fino a raggiungere il riflettore uno o più riflettori e quello che ci ha messo per andare dal riflettore per arrivare in superficie al geofono che l'ha registrata e questo tempo oltre che dalla profondità reale dalla distanza del riflettore dalla sorgente dalla superficie dipende anche e molto dalla velocità dell'onda che è una proprietà di ogni singolo strato cioè ogni strato a seconda della sua densità le sue caratteristiche ogni unità geologica però teoricamente ogni strato ha una sua velocità e quindi questa varia non è costante e quindi va considerata quindi questo poi vedremo ci porta a necessità di elaborazioni particolari per arrivare a una quello che assomiglia a una sezione geologica in cui c'è in orizzontale la distanza tra i punti e in verticale la profondità l'altra questione da sottolineare è quella della risoluzione di una linea la risoluzione è il dettaglio di una linea sismica quindi in qualche modo la sua qualità da un punto di vista di che cosa si riesce ad apprezzare ed è la distanza minima tra due strati che producono una riflessione quindi vediamo solo le riflessioni quindi solo gli strati che sono in grado o i contrasti che sono in grado di produrre riflessioni e vediamo solo quelli che stanno a una distanza minima che dipende molto dalle caratteristiche della sorgente quindi soprattutto dalla lunghezza d'onda dell'onda che energizza il terreno quindi in sostanza dalla frequenza onde corte cioè ad alta frequenza consentono una maggiore risoluzione cioè riescono a discriminare di più nel sottosuolo e poi dipende anche dall'assorbimento di energia che man mano che l'onda scende in profondità quindi più si va in profondità più la risoluzione tende comunque a diminuire e comunque predisponendo l'apparecchiatura di energizzazione di registrazione e quindi parametri della sezione di acquisizione si può in funzione dell'obiettivo che si va a cercare decidere anche un po' che tipo di risoluzione si vuole noi abbiamo lavorato su sezioni sismiche industriali fatte per obiettivi a profondità di diversi chilometri quindi con una risoluzione che ci aspettiamo dell'ordine di qualche decina di metri diciamo 20-30 metri quindi vediamo oggetti che hanno uno spessore o comunque riflettori che hanno una distanza superiore a quella non possiamo su quelle sezioni sismiche pretendere di spaccare il capello con i vari straterenti se si vuole far così bisogna fare delle altre tipo di acquisizioni con delle sezioni sismiche mirate ad obiettivi più superficiali che vanno allora in dettaglio e con altre situazioni molto velocemente questa è la parte alta di una sezione in cui questi numeri 440, 440 eccetera sono gli shot point cioè i punti in cui è stato energizzato il terreno quindi i punti fissi i riferimenti in cui si è creata la sezione questi qua sopra sono i nomi delle sezioni avete visto che all'inizio è una griglia di sezioni quindi ci sono incroci che permettono di muoversi nelle due dimensioni mentre nella scala verticale questi numeri 500.000 sono millisecondi questo quindi questo 1000 corrisponde a un secondo un secondo di tempo doppio questa è la griglia qui poi è mappata anche la profondità di una delle superfici su cui stavamo lavorando ecco questo è il quello su cui si lavora questo è un orizzonte nella parte alta quindi c'è un dettaglio anche maggiore in workstation sulla workstation in data room con il software di Eni si può con il mouse molto velocemente marcare un orizzonte o più orizzonti con un certo colore codificato da noi per seguire delle superfici queste linee verticali sono lo stesso orizzonte sulle linee incrociate quindi si può seguire nello spazio e controllare se l'interpretazione è corretta se riusciamo a tornare al punto di partenza se ci siamo persi da qualche parte cosa che onestamente succede spesso però per fortuna c'è con un po' di laboriosità modo di controllare quindi ancora il discorso tempi contro le profondità se la velocità mettiamo sia 2000 metri al secondo come è abbastanza tipica degli strati più superficiali già un po' densi vuol dire che un millisecondo in tempi doppi corrisponde a un chilometro a mille metri di profondità se la velocità aumenta quindi quando si va su rocce più dense per esempio a 3000 metri al secondo lo stesso millisecondo quindi la stessa profondità sulla sezione sismica corrisponde in realtà a un chilometro e mezzo di profondità a un secondo di conseguenza per trasformare queste superfici colorate queste linee colorate nel dominio dei tempi per poterle confrontare per esempio con i profili di pozzo e per quindi poi trasformarle in sezioni in profondità occorre esattamente conoscere la velocità di queste onde le onde pili onde primarie e soprattutto la sua variazione nelle diverse unità geologiche e quindi bisogna in sostanza costruire un modello più dettagliato possibile delle velocità che tiene conto sia delle variazioni in verticale ma anche delle variazioni laterali su una certa area poi oggi pomeriggio Francesco Maesano vi farà vedere come abbiamo lavorato come hanno lavorato su questo fronte ed è una delle cose più più critiche per poi andare a dire a 600 metri di profondità in questo punto c'è questa unità l'interpretazione sismica è abbastanza simpatica a me piace molto magari farlo tutti i giorni della vita no ma è divertente quindi su uno schermo sia la griglia delle sezioni sull'altro la sezione richiamata o la somma di più sezioni un esempio qualche esempio molto veloce giusto per farvi capire su che tipo di dati di qualità di dati abbiamo lavorato e pur essendo appunto mirati per obiettivi profondi in realtà hanno un ottimo dettaglio magari non tutte le sezioni ma quelle più recenti anche sulla parte più superficiale si può proiettare la traccia dei pozzi in cui poi si può verificare se le profondità degli orizzonti sono cose e poi si interpretano si interpretano gli orizzonti si inserisce l'interpretazione delle strutture e si va a comporre un puzzle di queste di queste strutture qualche esempio di qualche situazione tipo qui siamo per esempio nel margine alpino in zona bresciana questo è lo schema quindi stiamo parlando della parte più alta della sequenza che abbiamo indagato e qui si vedono per esempio queste superfici tra cui quella 800 mila anni di cui su cui aveva messo l'accento prima Giovanni Muttoni che vengono risalgono verso la superficie quindi vanno verso il margine alpino vengono deformate più in profondità e questa è una più in profondità c'è una cosa interessante come per esempio questi riflettori molto marcati che indicano un elevato contrasto di impedenza acustica che corrispondono a livelli grossolani conglomerati sono le ghiaie di Sergnano che sono rimasti isolati dall'erosione successiva dalla superficie di erosione successiva e poi sigillati quasi fossero poi delle mesas come quella del New Mexico con strati duri che poi sono stati erosi e rimangono in rilievo annegati però poi dalle argille plioceniche che sono queste più fini e che rappresentano un interessante obiettivo sia per già sfruttato per gas ma potenzialmente anche per altri altri scopi un'altra attività che abbiamo cercato di seguire soprattutto al margine alpino è quella di mappare dei corpi permeabili abbastanza profondi però abbastanza profondi siamo comunque nella parte alta del pliocene abbastanza vetti scusate diciamo più o meno appena sotto il limite o anche dentro il limite del quaternario del pliocene e sono originari corpi anche qui vedete delle riflessioni molto ben evidenti degli originali corpi conglomeratici ghiaiosi probabilmente di ambiente di delta quindi marini che originariamente quindi erano permeati da acqua salata ma essendo in prossimità del margine alpino essendo molto permeabili sono stati poi si dice flussati cioè l'acqua salata è stata spiazzata dall'acqua dolce che arriva dalle Alpi che ha un carico idraulico sufficiente e quindi possono rappresentare degli interessanti obiettivi per riserve idriche profonde che magari hanno un tempo di ricarica più lento quindi da utilizzare da gestire con oculatezza che però dovrebbero avere una qualità piuttosto buona a meno che non ci siano contaminazioni naturali di qualche tipo un'altra cosa interessante è una situazione qui invece nel pianura centrale dove vediamo le unità scusate le strutture appenniniche nordvergenti abbiamo visto appunto la compressione tra Alpi e Appennino di questo settore qui a sinistra dove c'è il sud abbiamo queste strutture di origine appenninica di vergenza quindi vanno verso il nord inarcano le superfici anche qui del già del Pleistocene Basso e si praticamente si scontrano vanno a avvicinarsi fino a quasi a toccarsi con le un po' più un pochino più vecchie ma non di tanto strutture alpine alpine ovviamente sotto la pianura quelle che sono sepolte sotto la pianura e quindi abbiamo questa situazione un po' di quasi contatto si affacciano e si guardano negli occhi e inarcando anche debolmente le superfici più recenti questo sono sceso dalle Alpi con la mia mountain bike siamo tuffati in pianura la prima tappa ho finito adesso passo la parola a Fabio che vi porta ancora un attimo in giro per la pianura grazie Andrea preferisco l'altro sport appunto queste proseguo diciamo l'escursus sull'area più che altro emiliana della nostra era pilota questo transetto che vedete come ci si presentava la linea sismica chiaramente quando siamo arrivati in data room e vuole essere rappresentativo di un settore che diciamo così illustra la situazione in questa parte di bacino quindi una situazione dove diciamo abbiamo la presenza di forti dislocazioni legate alla presenza delle pieghe emiliane alla formazione di un bacino piopleistocenico veramente con notevoli spessori accumuli di tutta la successione piopleistocenica e quindi e anche la formazione di strutture più o meno incipienti nella parte più settentrionale della linea ci troviamo soprattutto in questo settore queste sono veramente diciamo le strutture più che hanno di neoformazione più recente al di sotto dei nostri piedi di cui chiaramente noi non vediamo tracce in questa zona ad esempio siamo nella zona di Piadena sulla Rolo vedete che appunto come diceva Andrea prima il fatto di poter interpretare di avere la possibilità di incrociare progressivamente l'interpretazione e di portarcela dietro all'interno di questo network di sezioni sismiche ci consente ci ha consentito di arrivare a un dettaglio interpretativo direi buono molto buono e soprattutto ci ha consentito di poter validare nel corso del tempo nel corso delle settimane man mano che andavamo presso il data room le superfici che qui vedete colorate che sono le superfici stratigrafiche o comunque sequenziali più rappresentative della nostra area qui per per darvi un'idea nel settore di massima diciamo di massima profondità del bacino di Forelip possiamo arrivare anche a spessore di 7-8 km di profondità relativi alla base del Pliocene questo è un altro settore legato invece alla presenza sempre di trast di pieghe e dislocazioni profonde al di sotto dei nostri piedi in questa zona che è molto più deformata e anche di deformazione più recente soprattutto datata Pliocene medio superiore fino ai giorni nostri perché qui poi in questo settore c'è stato anche il terremoto dell'Emilia anche in questa zona in cui è stato difficoltoso diciamo più difficoltoso seguire gli orizzonti e interpretare gli stessi vedete come appunto in questo settore ci siano dislocazioni sono le linee sismiche che ce le fanno vedere molto molto importanti ci sono lineamenti di faglie di faglie sepolte diciamo che hanno estensioni veramente plurichilometriche e arrivano a diverse migliaia di chilometri di profondità che però siamo in parte riusciti a seguire attraverso il lavoro appunto il lavoro presso il data room secondo me un altro aspetto importante è stato il fatto di apprezzare certi rigetti relativi alle faglie o di poter dare anche certe interpretazioni soprattutto mettendo insieme la conoscenza dei rispettivi riflettori quindi dei rispettivi superfici che noi andavamo a mappare nel tempo quindi è chiaro che arrivare con un quadro stratigrafico di dettaglio in questo settore quindi già con un'interpretazione stratigrafica di un certo tipo questo rende il lavoro facilita il lavoro anche nell'interpretazione degli aspetti diciamo strutturali quindi delle faglie scusate questa è sempre un'altra sezione che è strike è ortogonale rispetto a quella di prima dove comunque vedete e si può comunque sempre apprezzare queste linee rosse sostanzialmente sono appunto le dislocazioni le faglie profonde i riflettori potete veramente diciamo apprezzare come alcuni di questi riflettori vengano dislocati per diciamo comunque migliaia di chilometri al di sotto dei nostri piedi quindi questo è per farvi vedere anche un po' in questo settore il dettaglio che siamo riusciti a raggiungere a livello interpretativo un'ultima diciamo un'ultimo settore un'ultimo escursus è nella zona di monoclineale quella che noi diciamo chiamiamo la zona viene normalmente chiamata settore di monoclinale in questo caso siamo tra le province di Mantua e Brescia dove in questo settore è un settore che tettonicamente è praticamente indisturbato cioè siamo in una zona dove non si hanno dislocazioni particolari anzi l'attività tettonica è molto blanda se non quasi nulla e di fatti vedete come i riflettori non vengano dislocati e ci sia una sostanziale regolarità della distribuzione degli stessi anche qui siamo riusciti ad arrivare quindi a portarci dietro i riflettori principali le superfici principali partendo praticamente dal Pleistocene arrivando fino al Giura e al Trias questo era per dare un minimo di inquadramento sui vari settori come vedete l'area pilota che abbiamo studiato è comunque abbastanza variegata sotto l'aspetto diciamo geologico e strutturale un dato importantissimo chiaramente oltre alla sismica che ci ha permesso di estendere le informazioni a livello spaziale è il dato verticale il dato puntuale del pozzo normalmente a livello cartaceo un profilo di pozzo si mostra in questo modo quindi con tutta una serie di informazioni che vanno dai diciamo dai cuttings quindi da informazioni di tipo litologico dai log elettrici che vengono effettuati durante la fase di perforazione a foro scoperto e da una serie di osservazioni di tipo minerario normalmente più tutta una serie diciamo di altri dati queste informazioni per noi sono state di fondamentale importanza per poi andare a fare un lavoro più di refinement di dettaglio maggiore per quanto riguarda soprattutto i geopotenziali ma anche la taratura del chiaramente e la conoscenza di quello che andavamo a diciamo così come tirarselo dietro con la matita o con i penarelli colorati uno andava a tirarsi dietro delle linee presso il data room qui vedete un esempio non so di un esempio di log di resistività quindi questi questa questa informazione ci consente ad esempio soprattutto di definire un dominio di acque di corpi geologici saturati ad acque dolci passanti ad acque salmastre per poi passare ad acque salate o comunque ci consente di seguire quella che è l'evoluzione diciamo anche un'evoluzione di tipo idrogeologico un minimo di caratterizzazione idrogeologica di questi di questi corpi oltre che a darne anche una caratterizzazione comunque litologica queste informazioni associate ad altri tipi di informazioni vedete in questo caso il potenziale spontaneo che dà più informazioni di tipo meramente diciamo litologico più ancora ad altre informazioni in questo caso io ho voluto riportare il parametro della densità dei fanghi perché è molto importante per poter diciamo così distinguere all'interno di un pozzo che chiaramente va a perforare una successione di diversi milioni di anni addirittura centinaia di milioni di anni può dare informazioni molto importanti su quella che è l'evoluzione proprio geodinamica che hanno subito queste formazioni geologiche nel tempo quindi tutti questi parametri comunque sono stati considerati nel nostro lavoro chiaramente vedete che all'interno invece delle osservazioni ci sono osservazioni di vario tipo ad esempio prove di permeabilità o di porosità caratterizzazioni legate appunto ai contatti ai contatti litologici altri legati a contatti di tipo di tipo strutturale quindi presenza di faglie di sovrascorrimenti un altro parametro molto importante che però verrà chiaramente diciamo così spiegato molto meglio nel seguito sono i dati di temperatura cioè durante la perforazione venivano presi periodicamente o comunque a certe profondità di interesse chiaramente minerario misure di temperatura in pozzo queste chiaramente ci sono servite per la costruzione e la validazione del modello delle temperature nel sottosuolo chiaramente tutta questo tipo di questa mole di dati è stata si è cercato per quanto possibile per quanto è stato possibile nei tempi del progetto di informatizzarla ed è una mole di dati che appunto armonizza un po' quelle che sono le conoscenze e le informazioni di tipo minerario nel sottosuolo chiaramente tutti i dati basati su pozzi questa slide comunque l'assalto era solo rappresentativa per dire che poi chiaramente tutti questi dati messi insieme danno appunto danno uno sguardo d'insieme della successione perforata dal pozzo e possono anche dare degli spunti degli importanti spunti di riflessione appunto mettendo in correlazione certi parametri con altri parametri ad esempio fanghi di perforazione conducibilità termica andamento delle temperature e quant'altro ecco un altro un altro passaggio importante secondo me fondamentale è stato come professor Muttoni faceva vedere nella parte introduttiva normalmente noi siamo abituati a vedere dei transetti strati grafici legati a conoscenze diciamo di successioni in affioramento noi abbiamo cercato di fare la stessa cosa basandoci chiaramente sulle informazioni di pozzo pozzi che quindi attraversano tutta la successione stratigrafica dall'attuale fino al giurassico al triassico questo ad esempio è la traccia di uno di questi transetti dove all'interno di questi transetti chiaramente sono state evidenziate le formazioni principali e soprattutto le principali superfici le superfici stratigrafico sequenziali più importanti che hanno un significato alla scala regionale e che quindi potevano essere potenzialmente mappate seguite nel nostro lavoro di data room che potevano dare appunto un valore aggiunto nell'implementazione della conoscenza del sottosuolo quindi immaginate che questo tipo di lavoro chiaramente come approccio sostanzialmente per dove è stato possibile è stato fatto su tutta l'area su tutta l'area pilota questa l'assalto perché comunque già Andrea ha spiegato prima il discorso che chiaramente le linee sismiche sono in tempi e invece i dati di pozzo sono in profondità comunque abbiamo avuto tutte le informazioni a riguardo per poter andare a dettagliare al meglio quindi le velocità intervallari e poter fare una conversione da tempi a profondità questa è un'ultima slide appunto per farvi vedere sostanzialmente quale può essere un approccio base che noi abbiamo utilizzato per andare a interpretare le linee sismiche quindi una conoscenza delle velocità intervallari avendo le proiezioni dei pozzi sulle linee sismiche accoppiandoli anche al segnale ad esempio questo è un log di resistività per chiaramente tarare le superfici stratigrafiche principali come vi dicevo prima cioè quindi o le superfici diciamo di significato sequenziale principali un ulteriore passaggio anche questo soprattutto per la caratterizzazione dei geopotenziali come di cui parlava Andrea prima è stato è anche quello appunto di poter dare una corrispondenza tra quella che è una faccia slog a livello a livello di pozzo quindi una faccia di log elettrico una faccia un aspetto che ha una una certa diciamo ad esempio in questo caso un log di resistività in una certa porzione di sottosuolo andarla a correlare con quelli che sono che è invece una faccia sismica quindi un aspetto che noi diciamo che si contraddistingue all'interno del profilo sismico qui ad esempio in questo esempio vedete come noi passiamo da una faccia sismica quindi meno evidente con contrasti meno evidenti nella parte più profonda che corrisponde sostanzialmente a depositi di tipo diciamo piattaforma scarpata per poi passare a dei riflettori diciamo più marcati e guarda caso sia un passaggio anche in corrispondenza del log di resistività qui entriamo chiaramente queste informazioni a livello di ambiente deposizionale ci vengono dati anche dai profili di pozzo diciamo a depositi grossolani più o meno grossolani normalmente grossolani sabbiosi di fronte del tizio per poi passare a depositi di tipo invece più diciamo di transizione lagunari o palustri e per poi arrivare alle facce diciamo di tipo di pianura alluvionale o comunque fluviali che fanno parte diciamo dell'ultimo riempimento del nostro vaccino padano ecco questo era appunto per dare un escursus per cercare un po' di legare quelli che è stato il nostro lavoro al data room che è stato che ha avuto appunto come obiettivo oltre la mappatura delle superfici anche quella di poter dare una caratterizzazione di poter seguire dove c'era la possibilità certi corpi che potevano essere di particolare interesse soprattutto diciamo di tipo terrigeno silico-clastico grazie 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 come vedete ci siamo sempre più avvicinando poi agli interventi del pomeriggio in particolare quello iniziale del pomeriggio dove poi vedremo